Sì, allora, nella mattinata di ieri abbiamo eseguito tre perquisizioni, una a Mirano, una a Salzano e una in centro storico qui a Venezia, per la ricerca di armi. Abbiamo richiesto all'autorità giudiziaria queste perquisizioni, infatti ci sono state delegate, all'esito di un'attività di monitoraggio che la Digos effettua quotidianamente su internet. In particolare queste notizie sono venute fuori da Facebook. Abbiamo notato delle fotografie di ragazzi giovani, hanno tutti intorno ai 20 anni, che avevano una foto in particolare con il macete e i commenti sono quelli che ci hanno preoccupato di più. Perché erano commenti del tipo, siamo pronti per l'apocalisse, bisogna fare spedizioni punitive. Non era chiaramente identificato il soggetto o il genere verso cui si sarebbe dovuta concretizzare questa violenza. Però i commenti erano preoccupanti, non sapevamo esattamente che armi avremmo trovato, ma quelle in fotografia già di per sé erano da tenere in considerazione. In effetti abbiamo trovato armi a casa di tutti e tre, abbiamo trovato le spade katane di dimensioni molto lunghe, alcune modificate, abbiamo trovato coltelli, le stellette dei ninja e anche altri tipi di pugnali, tutti con lame molto affilate. C'è anche una mazza ferrata con le punte dentate, una balestra e abbiamo sequestrato anche una pistola che è da soft tail, però era senza il tappo rosso e verificheremo che non sia stata modificata. Allo Stato non siamo in grado di dire se i soggetti facciano parte di un gruppo che si possa identificare per una connotazione politica o odio razziale o cose di questo genere. Allo Stato siamo proprio in una fase embrionale. È chiaro che però la presenza di armi e di armi in mano ai giovani e commenti di questo tipo hanno imposto un intervento repentino. Perché è chiaro che il messaggio che si vuole mandare è proprio di come sia necessario che alle armi si dia un approccio di responsabilità. E quindi commenti di questo genere postati su un sito pubblico e come dirlo per strada hanno preoccupato molto.